e ora arriviamo ad armada appunto dopo questa introduzione per farvi un po capire com'è nato questo disco è nato in assoluta rapidità in realtà ci sono altri dischi di hypergem che sono nati comunque in un periodo di tempo abbastanza breve prima di tutti è backspacer che comunque backspacer se uno somma le varie settimane di registrazione sono di più di quelle che ci sono volute per fare darmada e allora era lecito anche pensare che avremmo potuto ascoltare un disco un po figlio di una registrazione molto veloce di un incisione molto veloce di una scrittura soprattutto molto veloce e invece no e invece darmada è un disco che altrimenti altre band ci avrebbero messo una vita per farlo hypergem che sono in giro da più di 30 anni questo è il loro 34esimo anno di attività sono riusciti a creare un lavoro un disco che seppure non rappresenta come alcune prime voci riportavano un ritorno all'origine e spesso lo si sa soprattutto con quelle band che non ha certa longevità sono in giro da parecchio tempo spesso quando esce un nuovo loro disco questo ritorno alle origini non è un ritorno alle origini perché alla fine i per gem non hanno più 30 anni e se qualcuno ascoltando darmada pensa di trovarsi di fronte a un nuovo teno un nuovo versus è concettualmente sbagliato perché comunque una band che ha il doppio dell'età quando aveva inciso quei dischi non può fare un disco del genere non avrebbe neanche avuto senso e soprattutto perché fare un nuovo teno versus ce li abbiamo già no in questo disco per per jam ritornano prepotentemente con delle canzoni che mettono che riescono a mettere in luce le loro peculiarità la loro peculiarità del sound dell'essenza stessa del gruppo ci sono molti mid tempo e con il mid tempo lo sappiamo molto bene i per jam sono sempre stati dei fuori serie pezzi come light years are to imagine love boat captain in hiding i primi che mi vengono in mente sono assoluti capolavori quindi finalmente un produttore ha capito che la vera potenza dei per jam soprattutto da un punto di vista e mozzi emotivo per loro ed emozionante per l'ascoltatore sarebbe stato quello di scrivere incidere parecchi mi tempo quelli che sono presenti in armada attenzione non è un disco solo di armada perché qua di scusate non è un disco solo di mi tempo perché quando la band decide di fare di incidere canzoni abbastanza toste lo fa e mica se sono toste veramente parecchie toste quindi dark matter riesce secondo me a rappresentare senza iperbole uno dei migliori dischi incisi dai per jam in tutti questi anni non mi importa di dire è meglio di questo è meglio di quell'altro è un giochino che non è interessante perché alla fin fine ognuno può rimanere legato di più a un disco precedente dei per jam a caso mai uno dei loro primi perché comunque la sua vita a volte uno la musica che uno ama in un periodo della sua vita l'associa alla sua vita stessa quello che gli capita e quindi se siete anche voi pian piano invecchiati per modo di dire se avete più anni è ovvio che quello che succede nella vita e influenza e la musica che uno ascolta in quei periodi della vita uno la può prendere la può assorbire in una maniera diversa rispetto soprattutto quando era un teenager detto questo grazie a andrew watt che era la cosa il personaggio in questione che più mi faceva paura di questo dark matter la scommessa è stata vinta ma vinta alla grande perché andrew watt che è nato esattamente due giorni prima del primo concerto di sempre dei per jam lui è nato il 20 ottobre del 1990 i per jam si sono esibiti per la prima volta all'off ramp caffè il 22 ottobre di quell'anno quindi si pensate alla metà dei dell'età che hanno invece per jam e quando lui nasceva e per jam probabilmente stavano gemmando release no è abbastanza interessante questo discorso perché comunque andrew watt era il personaggio che un po più mi faceva paura relativamente a questo disco perché se ricordate la mia recensione di earthling io un pochino bastonavo la produzione di andrew watt che era un po troppo diciamo compressa un po troppo era un po troppo compressa un po troppo aggressiva ma comunque earth in fastoria sa è un disco solista di weather questo è un disco per jam quindi mettiamo da parte herding però fortunatamente andrew watt in questo disco secondo me ha fatto un lavoro eccezionale eccezionale perché perché finalmente grazie lui grazie per jam grazie al momento grazie a non lo so ma qualcosa è andato dannatamente bene verso la direzione che ogni componente dei per jam è riuscito a dare il massimo di se stesso e mi spiego meglio ci sono degli assoli in armada di mccready come non se ne sentivano da anni ci sono dei rift di gossard così taglienti affilati come non se ne sentivano dai tempi dell'avocado più o meno il basso di jeff beh è sempre stata una cosa squisita nelle canzoni dei per jam ma qui quando viene messo in evidenza beh è incredibile matt cameron matt cameron forse il vero re del disco perché non è mai suonata così bene la sua batteria in nessun altro disco dei per jam e lui lo sappiamo è un è un leone con i sun garden ha fatto roba assurda con i temple of the dog ha fatto roba assurda e così come con tutti i suoi gruppi paralleli ma con i per jam tranne alcune canzoni di binaural e mi viene in mente grivian sin significance così ha sempre un po come si può dire suonato e senza tirare fuori la quintessenza del suo suono di batteria in questo disco salta fuori alla grandissima e soprattutto si fonde perfettamente con questo sound con il sound che predomina e predominante dal badra tutto quello che sentite in questo disco è un'amalgama di suono creato del gruppo al suo massimo livello perché veramente qua si va a cercare son goss ha detto una cosa molto interessante ovvero che se andrew watt che comunque adesso ha prodotto ovviamente come sicuramente saprete l'ultimo disco dei rolling stones che è una bomba gli ultimi due dischi di os di osborne ma anche quello di hip hop e così e quindi adesso sta facendo molti dischi rock compreso appunto lo tengo questo darmada prima era conosciuto per essere un produttore pop di roba tipo post malone due lipa eccetera eccetera cosa ha fatto il buon watt a detta di gossard è riuscito a creare una suspense nelle canzoni e non che per già non abbiano nel passato creato una determinata suspense nelle loro canzoni perché pensate anche light years quei stop and go che ci sono in quei momenti dove la musica si ferma e riparte la suspense è sempre stata ma nel pop a volte la suspense è creata artificialmente cioè artificialmente per non dire in un modo in un'ottica più commerciale ecco che nel rock proprio per emotivamente smuovere l'ascoltatore bene andrew watt è riuscito a detta di gossard e sono assolutamente accordo con gossard a creare questo a mettere in queste canzoni da armada una una suspense che avvolge travolge l'ascoltatore quindi andrew watt grande bravissimo sulla compressione del suono così ne parleremo con due amici che a breve farò intervenire sia nel podcast che in altri luoghi e che ne sanno più di me e non voglio perdere del tempo io a dirvi cose sul sound in sé sulla compressione eccetera eccetera quando ho due fuori classic ne sapranno parlare molto bene a tempo debito